Allora ragazzi, Amirgo e Mirko, arrivati alla seconda speciale di sabato, termina qua il percorso del campionato italiano e ci vede in testa, penso sia nella categoria side by side che anche nella generale, quindi siamo molto contenti. Per noi l'impegno non finisce qua, a domani si corre sempre ma in Coppa del Mondo. Il secondo giro è molto bello, buccato perché si è rovinato parecchio ma siamo riusciti a spingere, quindi vuol dire che il lavoro fatto sulle sospensioni di serie del veicolo, perché come escono dal concessionario noi le abbiamo portate in gara, è stato molto buono perché siamo riusciti a spingere abbastanza, i nostri avversari sono molto veloci, alcuni hanno avuto qualche piccolo problema ma fa parte del gioco e diciamo una competizione molto dura e bisogna arrivare alla fine perché l'ultima parola non è mai detta.